Quanto tempo devo investire per poter creare 40 reel al mese, ovvero 10 a settimana? Lo vediamo in questo video. Perché ho deciso di fare questo video? Non solo perché i reel stanno andando veramente alla grande e ti permettono organicamente di raggiungere un vasto numero di persone, ma soprattutto perché il più delle volte quando entro in consulenza la risposta che mi viene data frequentemente nel momento in cui chiedo di realizzare dei brevi video è io non ho tempo. E questo onestamente mi sembra proprio una scusa barbina perché fondamentalmente i reel come gli shorts durano così poco, durano un massimo di 60 secondi, che è impossibile che durante la giornata uno non ha il tempo o un minuto di fermarsi, prendere il telefono e registrare. E che quindi non è un problema di tempo ma pensi di organizzazione. Ed ecco perché ho deciso di fare questo video. 40 reel al mese per quanto sembri un risultato difficilissimo da raggiungere è un risultato apportabilissimo. Basta solo pianificare e organizzarsi per bene. Ti faccio un esempio. 40 reel o 40 shorts al mese sono 10 video a settimana. 10 video a settimana sono 10 minuti di girato. 10 minuti di girato si possono riprendere in... Mi tengo largo? Un'ora? Eh ma Alessio il problema non è solo registrarli ma è anche scritturarli. Ok, ipotizziamo che prima di andare a dormire ti prendi un bel foglio di carta e ti scrivi 10 argomenti che vorresti trattare. In quanto riusciresti a svilupparli? Essendo un super professionista, una super professionista preparata che vive quotidianamente la propria realtà lavorativa, quanto puoi metterci? Un'altra ora? Due ore? Facciamo 10 minuti argomento. 10 per 10? 100 minuti. Quindi sono neanche due ore. Sono un'ora e 50 di tempo. Ipotizziamo che tu volessi scritturare due video al giorno. Sono 2, 4, 6, 8, 10. Sono 5 giorni. Quindi 100 minuti diviso per 5 giorni. Ecco che ti bastano 20 minuti al giorno per pianificare i due argomenti. Come vedi con poco meno di mezz'ora al giorno e con un'ora a settimana per inciderli, per acquisirli, e mi sono tenuto veramente tanto largo, tu hai la possibilità di promuoverti online in organico. E questo secondo te non è un buon motivo per investire 3 ore alla settimana per registrare i tuoi reel? Eh ma io non ho né mezz'ora al giorno né un'ora a settimana per poter acquisire i reel. Eh allora qui c'è un problema di fondo. Perché fondamentalmente vuol dire che non stai vivendo la tua vita, ma stai all'interno del frullatore delle cose da fare e quindi stai utilizzando un modello di business professionalmente parlando che non è autosostenibile. Perché se non trovi il tempo per te e non trovi il tempo per promuoverti, alla fine arriverà un certo punto che non ce la farei più e farei BOOM! Quindi ricapitolando, 10 ore alla settimana è un risultato che si può raggiungere comodamente? Sì, come hai visto servono 2 ore scarse per pianificarli e per scritturarli e un'ora per inciderli. Poi se fondamentalmente ci sono altri problemi del tipo, eh ma io ho disagio a parlare in camera, eh ma non riesco a trasmettere un'immagine credibile e autorevole di me in video, eh però quando faccio i video non mi piace e quindi di conseguenza li faccio ma non li posto, ho preparato un video gratuito dove parlo proprio di questi argomenti, ti basta cliccare sul link che trovo in descrizione. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che ti è stato utile, se ti è stato utile metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanellina e al prossimo video! Grazie per la visione!